Papa Francesco che proposta ha fatto? Ha chiesto a tutti di recitare il Rosario per il prossimo mese di maggio, per chiedere l'intercessione della Madonna, perché il Signore ci salvi da questa tragedia, che la sua mano venga a guarire una ferita che sembra incapace di cicatrizzarsi, perché ogni giorno avvertiamo che la strage continua. E poi siamo in tanti, insensibili e incapaci di impegnarci in quelle regole che salvano se stessi e salvano tutti. Signore, da chi andremo? Veniamo da Te e chiediamo che sia Tua Madre a condurci a Te. Ce l'hai lasciata come Madre. possiamo sicuramente domandare e chiedere la Sua intercessione. Possiamo domandarle di prenderci per mano e di farci attraversare questo momento di una storia frastagliata e incerta, dove ci condurrà, laddove l'abbiamo scoperta ci è stata data come Madre, ai piedi della croce del Figlio. E a Lui chiederemo, Signore, Tu hai parole di vita eterna. Rendici capaci di credere a Te e conoscere che Tu sei il nostro Garante presso il Trono del Padre e Tu puoi liberarci da ogni male.